E quanto stiamo per la novità? Assicurazioni pagano buone. Può stare tranquilli. Metà c'è la maita e metà ne picchiamo noi. Metà? Ci diciamo. Mi servono come pane? E se possiamo fare affidamento? Lo facciamo ora. Puro ognuno passa orsata. Ma fa pena. Ma ti ha tutta pena di farlo. E di chi si vuoi a pratica liquidata, te la morrerai. La metà sta facendo i miei faici filmare queste quattro gai. Non filmo neanche. Scappaste pure tutta la comunità. Voglio far ripetere tempo. Siamo lui senza arte né parte. Siamo nudo nel mercato con niente. la notizia. Grazie a tutti.